Conto alla rovescia per la finale inter-girone fra Santa Croce e Terme Vigliatore, le due compagini che hanno vinto rispettivamente i play-off dei gironi D e C di promozione. La squadra che uscirà vincitrice dalla sfida avrà il diritto di disputare nella prossima stagione il campionato di eccellenza. La finale è in programma domenica alle 17 a Mascaluccia. Il Santa Croce avrà a seguito circa 200 tifosi pronti a sostenere la squadra del cuore in quest'ultimo e decisivo atto del torneo di promozione. Condotto alla grande sotto la guida tecnica di Mister Lucenti. Il Terme Vigliatore è una squadra di tutto rispetto che può contare su un giocatore come Danna, che ha disputato anche qualche partita in Serie B, e sul bomber genovese che quest'anno ha realizzato 30 gol.